Ben tornati a tutti. Oggi è sabato, 7 ottobre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Soddisfatti o rimborsati? Se le stelle del giorno odierno non vi soddisfano potreste provare a chiedere un rimborso. Saturno contro ve ne darebbe adito, soprattutto se un rapporto di coppia o con un socio è in crisi. A vostro favore, però, o meglio la soddisfazione che evita al cielo il procedimento del rimborso, ecco in scena l'antidoto stellare alla freddezza e all'isolamento di Saturno, il grande Giove, garante di ottimismo, opportunità, fortuna, intrigono al vostro segno, sostenuto dalla luna del giorno nel segno amico del cancro che la esprime nella sua massima forza, in se stile. Se i rapporti più profondi e intimi fanno acqua da tutte le parti, vi prendete una pausa partendo per il weekend con gli amici, tutti amanti dei luoghi e delle discipline che tanto vi prendono, arte, spiritualità, archeologia, storia. Staccare l'attenzione dai cruci consente di vederli da un'altra prospettiva o addirittura di ridimensionarli. Uomo di media età inaffidabile, talvolta disonesto e infedelle, con una difficile situazione alle spalle. Sperpero di denaro ed eccessi di spesa. Dal punto di vista economica o si vivono o si stanno per vivere delle difficoltà evidenti. Alcune coppie potrebbero scoppiare, soprattutto quella nate tra gennaio e marzo. Occhio alla gelosia. Date la giusta fiducia a chi vi interessa e vi sta a cuore se intendete conquistarla. Non è la gelosia che conquisterà il cuore della persona a cui tenete. Molto bene amore e lavoro. Per i single e i dispoccupati ottime possibilità all'orizzonte. Sentite di poter vincere oggi molte battaglie, è incoraggiante la vostra forza d'animo, solo che dovreste provare a non criticare l'operato altrui e preservarvi da pettegolezzi inutili. Se siete alla ricerca di un prestito per acquistare un'auto, un elettrodomestico o, perché no, un piccolo immobile, esaminate varie proposte di banche e finanziarie, non limitatevi alle prime proposte e approfondite sempre le condizioni e le clausole. Oggi sono privilegiate le relazioni candestine e segrete, i partner che devono nascondersi agli occhi del mondo potrebbero trascorrere momenti di sogno. Non sottovalutate l'ipotesi di presentarvi a un appuntamento con un regalo che farà felice il vostro amante. Non potete rischiare di compromettere la vostra storia d'amore per degli stupide dubbi che avete sul vostro partner e sulla sua condotta. È così difficile avere dei chiarimenti? È così difficile vivere un po' più leggeri? La luna vi regala la lucidità e l'abilità dialettica necessarie per vincere ogni confronto. Sfruttatela al massimo per spiegarvi e convincere gli altri della bontà delle vostre intenzioni. Bene gli acquisti fatti anche via web, occasioni da cogliere a volo e buoni affari in vista. Solo scegliete con cura da chi comprare. Luna, Giove, Mercurio, Urano, Marte, Sole e infatti dalla vostra parte, con l'aggiunta consistente di un fortissimo Plutone. E voi vi preparate a una giornata tra le più belle di questo mese. Affabilità nei rapporti, facilità di comunicare, bonomia, vi assistono e sono protetti dalla fortuna oggi. A questo aggiungente un fascino smagliante e una disinvoltura nel trattare la gente appena conosciuta che vi potrà aprire molte porte. Per quel che riguarda il fitness, nella cura del corpo siete impareggiabili. La luna molto bella vi consente di migliorare il vostro look, specie se appartenete alla seconda decade. La scelta di nuove soluzioni vi soddisfa e la conferma arriva dai miracolosi risultati ottenuti sul vostro fisico. Saturno contro, ormai ci avete fatto il callo visto che sono otto mesi esatti che transita nel segno di rimpetto al vostro, i pesci, e qui rimarrà ancora per un bel pezzo, perciò non fateci troppo caso. Se il partner c'è quel filo di preoccupazione, di stanchezza e distanza continuate a sentirlo, oggi però in modo molto, molto sottile perché ad addolcire la vostra relazione provvedono il sestile della luna, confidenziale in cancro e il bel trigono di Giove, ottimista e protettivo in toro, segno griffato dal vostro stesso elemento, la Terra. Tanti altri motivi dunque per razionalizzare le vostre eventuali difficoltà, peccato che l'astro della logica, il piccolo Mercurio, proprio ieri vi abbia dato il biebie, andandosi a occupare non più di voi come persone ma delle vostre finanze, insomma non dell'essere ma dell'avere. Risultato, appoggi concreti da amici, parenti e colleghi, vicini o lontani vi sentite sostenuti da una rete solida e affettuosa. In coppia dopo una piccola crisi inizia una fase di avvicinamento, se il partner non c'è e portate avanti le vostre giornate soli soletti a casa di amici o in viaggio incontrerete qualcuno che non vi lascerà del tutto indifferenti. Era ora. Amore ed Eros. Voi e l'amore oggi abitate distanti al punto che non vi guardate nemmeno in faccia, forte il senso di solitudine o di delusione rispetto a una storia che sembrava pronta per il decollo invece è sfumata come una bolla di sapone. Malinconia anche se il partner c'è ma attualmente è lontano per ragioni di famiglia o di lavoro. Sentirsi e scriversi spesso aiuta ma rispetto all'abbraccio e alla quotidianità condivisa la differenza è abissale, in poche parole vi manca come non avreste mai immaginato potesse accadere. Premio di consolazione le amicizie, vecchie conoscenze fin dai tempi dell'asilo, rimangare il passato è dolce come una carezza e vi fa dimenticare l'attuale tormentone. Lavoro e denaro. Sereni in azienda circondati da persone gentili. Se qualcuno sotto sotto vi invidia farà attenzione a non darlo a vedere, particolarmente soddisfacenti gli studi, a un esame imbrocate tutte le domande facendo una splendida figura. Bello portare a casa un voto così alto, con tanti complimenti e foste da tutta la famiglia. Ciò che non gira bene sono gli affari, forse perché non ci siete tagliati o forse per via di un interlocutore troppo duro e scafato, capace di mettervi a disagio al punto da farvi perdere la bussola. Benessere. Mal di schiena, tipico del cambio di stagione, dunque segnale inequivocabile del fatto che l'autunno è arrivato. Che voglia di migrare come gli uccelli marini verso l'altra metà del pianeta dove le stagioni sono invertite. Per lei, sole solette, finita anche l'ultima storia d'amore, ma dopo esservi asciugate gli occhi smettete di preoccuparvene e tanto meno di rimpiangere chi non lo merita. Sparpagliate per il mondo avete tante buone amiche, che aspettate a chiamarle e fare valigia? Per lui, di rientro da un viaggio di lavoro o di affari con esito brillante, se la casa la trovate vuota perché una lei nella vostra vita ancora non c'è, un piccolo sospiro e andate a raccontare i vostri successi amicio o fido, l'amore che leggete nei loro occhi è la conferma che hanno capito i migliori del mondo siete voi. Colore delle emozioni, violetto. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 10, finanze, 10, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.